I costi sostenuti nelle giornate clou dell'emergenza maltempo in provincia di Teramo sono stati riconosciuti dal Consiglio Provinciale con un'apposita delibera per un importo di 2 milioni e 300 mila euro. Sono costi che noi adesso stiamo riconoscendo come debito fuori bilancio perché ovviamente non erano preventivati in bilancio. Sono delle somme che ci dovranno essere corrisposte dall'ufficio, dai fondi speciali del terremoto per quanto riguarda i lavori che abbiamo fatto nei comuni che rientrano nel cratere. Il resto perché ci sarà una contabilità separata dalla emergenza maltempo e quindi da fondi speciali dell'ordinanza maltempo. Intanto stamattina lei Presidente ha firmato diverse delibere per i lavori di somma urgenza in diverse località del territorio della provincia di Teramo. Sì, mentre ieri il Consiglio ha preso atto dei costi che noi sostenemmo per intervenire nel momento in cui c'era il fenomeno, oggi ho firmato 21 delibere per complessivi 6 milioni di euro che sono tanti lavori da 300 mila, 400 mila, 250 mila per il ripristino e la messa in sicurezza delle strade che erano state danneggiate e dal terremoto ma soprattutto dal maltempo. Anche in questo caso questi fondi ci dovranno essere riconosciuti. Noi però, e devo dire veramente con un'attenzione particolare verso il mondo imprenditoriale terramano, abbiamo già fatto un incontro con le banche e stiamo stipulando con alcune banche dei protocolli per un mandato irrevocabile all'incasso. Che cosa voglio dire? Che le imprese possono ottenere anticipazioni da parte delle banche, quando arriveranno le somme, le somme non saranno destinate alle imprese che avranno ceduto sostanzialmente il diritto all'incasso e andranno direttamente sul conto che ci sarà indicato dalle banche. In questo modo le imprese riusciranno ad avere le somme in anticipo in tempi brevi e gli istituti bancari saranno comunque tutelati dal fatto che non appena i fondi arrivano andranno direttamente le loro casse.